Allora 5 minuti con OpenSIM Utilizzeremo questo programmino simmonastic.com che consente di scaricarsi rapidamente una configurazione già quasi utilizzabile di OpenSIM senza fatica e senza danno insomma si utilizzerà l'ultima versione 0.7.6 appena uscita e quindi vedremo come operare risparmiamo il tempo di download, sono un centinaio di megabyte una volta che avete scaricato questi ecco vedete abbiamo SOAS 076 setup.exe 111 megabyte quindi non ci rimane che lanciarlo quindi lo lanciamo .exe lanciamo ci segnala alcune cosine quindi si dice che ci mette un link sullo schermo sul desktop centrale e dopodiché dobbiamo accettare le condizioni di OpenSource il fatto che sia un programma in alfa quindi abbiamo detto che funzioni perfettamente accettiamo e ce lo installa il default qua in C SOAS 076 facciamo install e lui praticamente crea tutto quello che è necessario perfetto, è finito quindi niente, è una frase di ringraziamento e quindi dovremmo essere già quasi a posto come facciamo adesso per effettivamente entrare dentro questo programma dobbiamo andare sotto il nostro dove l'abbiamo installato vedete che qui è installato un MOWES.exe e questo qui diciamo è il motore che fa partire il database e il web server bisogna far partire due cose quindi per prima cosa questo come vedete il MOWES portabile quindi questo parte nel momento in cui parte noi diciamo fa un po' di pubblicità al suo prodottino facciamo hide e se vediamo verde qua e qua vuol dire che è a posto quindi noi possiamo entrare tranquillamente anzi no, sono a posto i servizi cioè pacimo e sequele ma dobbiamo far partire la nostra sim e questo lo si fa andando qui ah, qui ci sono tutte le istruzioni sono anche contenute qua dentro quindi andiamo sotto diva bin e qui lanciamo opensim.exe quindi opensim eccolo qua opensim.exe e quindi in questo modo viene lanciato praticamente il nostro la nostra sim ora, non appena è lanciata la sim ci piega relativamente poco vedete che risponde sulla porta 9100 quindi se noi vogliamo collegarci con imprudence ad esempio qui allora ci attacchiamo con imprudence la grid sarebbe simonastrick però noi simonastrick se vogliamo crearla basta che mettiamo come loginuri http 127.0.0.1 porta 9100 quindi in pratica dovremmo scrivere qua http localhost oppure 127 come avete visto prima .0.0.1 2.9100 si fa get grid info ah vabbè questa versione insomma di imprudence vuole il punto normalmente vi già metterci i due punti quindi facendo la get grid info di 127.0.0.1 2.9100 abbiamo praticamente il nostro la nostra grid configurata la mettiamo e poi simonastrick e qui possiamo entrare tranquillamente come simonastrick password 123 mettiamo login quindi entriamo nel nostro mondo vedete che stiamo entrando sulla 076 ed eccoci qua nella nostra meravigliosa sim come vedete come bonus vabbè a parte che dobbiamo poi procacciarci tutto i vestiti eccetera ma ci fa vedere che abbiamo una diciamo pentola a piede d'oro ora poi per fare per costruirsi tutto eccetera voi lo sapete fare forse meglio di me comunque magari poi vi spiegherò un'altra volta comunque qui potete costruire i vostri oggetti potete metterci i vostri script vedete script running potete ecco una novità importantissima di open sim nuova è che questa volta è possibile costruire dei gruppi quindi creiamo un gruppo creiamo il gruppo gruppo 1 possiamo metterci anche statuto il mio gruppo il mio gruppo e poi volendo possiamo metterci anche delle foto facciamo una fotografia qualunque sia ce la salviamo e ci proviamo vediamo non ho detto che funzioni comunque questa foto ok proviamo a vedere se riusciamo a salvare questo gruppo largo un po' molto da vedere ecco qui c'è il tastino di ok qua sotto diciamo di no non costa niente ovviamente quindi qui a questo punto abbiamo fatto il gruppo quindi nel momento in cui abbiamo fatto il gruppo possiamo fare tutto ciò che sappiamo fare con i gruppi quindi sul gruppo 1 possiamo ad esempio dunque facciamo informazioni sul gruppo notice mandiamo la notice ciao a tutti messaggio e nel messaggio gli mettiamo ciao e gli mettiamo in allegato la fotina che abbiamo visto e infatti vedete è comparso solo che ho premuto il tasto sbagliato c'è proprio il tasto di invia e non di ok una cosa che mi ha sempre fregato anche dei tempi di second life ora questo è un video molto breve molto efficace spero vi fa vedere come potete fare le vostre cose insomma in una sim locale sul vostro pc senza disturbare nessuno senza pagare l'handa tier e la prossima volta vi farò vedere come caricare dei componenti delle cose vostre e spostare da second life qua e o viceversa questo è tutto per questa primissima puntatina di questi 5 minuti con OpenSIM grazie a tutti